Andiamo a salvare la nanerottola! Ovviamente tocca sempre a me il lavoro sparco! Però vabbè andiamo a salvarla, che problema c'è? Ma vai a cagare! Ah, c'è un'epeda che la prendo! Boh! Boh, allora adesso, prima di andare a salvare la nanerottola vi faccio vedere la stanza. Ah, ok. Mmmh, dai manca poco alla fine! chissà quanto è il tempo totale ho perso il conto ormai 3 orette 3 orette e mezza non lo so onestamente ho perso la cognizione del tempo comunque mi ci vorrà mezz'oretta sicura o anche meno per finirlo adesso anzi eccoci qua allora per aprire questa stanza nello scenario A dovevate fare la stessa cosa con Leon venire qua a registrarvi a mettere le impronte digitali e quando vi chiedeva controllo secondo le impronte digitali dovevate dire no così da dare spazio al personaggio dello scenario B di venire a registrarsi e aprire la stanza eh va in culo ok sono finiti i leakers boh allora questa stanza qui era una stanza di esperimenti abbastanza anche schifosa se devo ammetterlo qui è uscito uno sperimento allora qua cos'è intanto? ah i proiettili mitra eh però dai non me ne faccio nulla qui è uscito un esperimento ma sinceramente non riesco a capire chi possa chi possa essere insomma ci ho pensato a lungo magari no non lo voglio prendere ci ho pensato a lungo magari al nemesis o che so chissà se qualcuno sa che cazzo potrebbe essere uscito da quella capsula me lo dica che sono curiosa e e niente comunque vi ho fatto vedere anche la stanzina adesso andiamo a salvare la nannerottola e a finire il gioco voilà adesso ci sarà il bug che Claire sparisce di nuovo giusto per rendere tutto ancora più entusiasmante in questo gameplay ma ricordatevi nessun gameplay di tipetta va liscio come l'olio ci deve essere sempre qualche problema però vabbè dai yeah sparita Claire però dai va bene anche così lo dico io per autoconvincermi ebbiamo un pochino comunque stimo Mr. X per aver cercato di ammazzare la bimba gli voglio bene tutto sommato sherry help me Claire the monster's after your pendant throw it to me good girl now run sherry ma Mr. X ma vergognati faccio intinocchiare così in questo modo ma vergogna la sequenza di self-destruct la sequenza di self-destruct la sequenza di self-destruct la sequenza di non essere attivata la sequenza di non essere abortata tutti i colleghi procedono ad andare all'emergenza di un'auto in la nuova di una nuova alè se si è scompaare yeah 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 perchè mi disarmi Per lanciare un pendente Ti togli l'arma Ma sei proprio cretina Claire, lasciatelo dire Adesso Mister X si è incazzato Eh, d'altronde Beh, anche se non la trovi fa lo stesso Cioè, non ha mai lancato Nessuna musica Laga l'allarme Ah beh, qua si ha messi bene È destino Anche nell'1 laggava l'allarme Gli allarmi non sono ben graditi Sì, sì Non ne vuole proprio sapere Eh, vabbè, dai, succede Mamma, che mal di pancia Mamma, che mal di pancia Io con Claire mi sono impigliata mille volte in questo gameplay Mamma, mamma Cherry You have to escape I know I've been a terrible mother But I still love you Forgive me Mom Che insensibile Claire, una parola di incoraggiamento Dai, continueranno la produzione di Annette Dadone Non disperare, Sherry Già, può riposare in pace Dai, la nerottola, vieni, andiamo via Ah, manca pochissimo Vieni, Anna Rottola Vieni, Anna Rottola Va Yeah, abbiamo trovato una zona segreta Ma chi siamo? Yeah, sono in due a sparire adesso Che figata Questo gameplay è troppo esinerante Siamo arrivati? Unora A fuckin' train! I like trains! A galaxy 5000 Ha Buon, perfetto. Buon. Io vado a sistemarmi l'inventario a salvare. Ho salvato solo due volte, mi è stata brava, dai. Buon. 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 Claire B02 Treno Ok, allora Aspetta che depositi i nastri Così è uno spazio in meno Boh, pronta Prontissima Che palle Ho capito Adesso abbiamo il treno, andiamo Ah no, la porta è di là Ok Ok Andiamo a far muovere questa cosa 5 minuti fino alla detonazione What the